I propilei, ingresso cerimoniale dell'acropoli, sono il luogo di incontro di intellettuali, artisti e soprattutto filosofi, che qui discutono tra loro con eloquenza per attirare l'attenzione e l'interesse degli allievi, ma le lezioni e i dibattiti si tengono anche in luoghi più aperti e spaziosi, come le palestre e le piazze, dove, passeggiando in una stoa, si può persino cercare di indagare sulla causa e l'origine di tutte le cose.